Sono 10.800 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Italia su quasi 78.000 tamponi, dati che risentono ancora della chiusura festiva dei centri di prelievo e che lasciano stabile il tasso di positività, cioè il numero di test positivi su 100 tamponi, al 13,6%, stabile anche dopo il calo di ieri il numero dei deceduti. Oggi sono 348 per un totale da inizio pandemia pari a 75.680. Intanto prosegue anche se lentamente la fase 1 delle vaccinazioni. Alle 12 di oggi, secondo quanto riporta il sito del Ministero della Salute, erano 118.713 vaccinati su 469.950 dosi consegnate, circa il 25%. Delle 118.000 persone vaccinate, 105.870 sono operatori sanitari, 6.182 personale non sanitario e 6.661 ospiti delle residenze per anziani. Questa mattina Roma vaccino anche per Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, ed è proprio il Lazio, insieme alla provincia autonoma di Trento, a guidare la classifica delle somministrazioni con percentuali superiori al 50% delle dosi assegnate. Seguono sotto al 40% Veneto, Toscana e Basilicata. In forte ritardo due delle regioni più colpite dal virus, l'Emilia-Romagna con il 18% e soprattutto la Lombardia, che in una settimana ha somministrato solo 3.000 delle 80.000 dosi consegnate. In queste ore sono stati resi noti i dettagli della fase 3 delle vaccinazioni, quella di massa. Secondo le prime linee guida, i siti saranno circa 1.500, tra padiglioni, palestre, palazzetti e ambulatori. Verrà creato un centro informatico nazionale a supporto delle regioni per le convocazioni dei cittadini, che potranno anche prenotarsi via app o via sms.